RISING TEAM Design senza compromessi, aerodinamica ottimizzata e nuovo impianto frenante per la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2. Nuova versione della vettura da corsa che sarà unica protagonista delle tre serie continentali del campionato Lamborghini a partire dal 2022. Si tratta della versione più prestazionale mai progettata per correre in monomarca, giunto quest'anno alla tredicesima stagione. Sono trascorsi sette anni da quando presentammo a Peeble Beach la prima Huracan Super Trofeo e oggi squadra corse aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia, ha commentato Stefan Winkelmann, presidente CEO Automobili Lamborghini. La Huracan è una delle maggiori best seller nella storia del marchio e il Super Trofeo ha contribuito a incrementarne il successo. Dal 2009 ad oggi, 950 piloti hanno corso nel Super Trofeo, disputando oltre 310 ore di gara sui più prestigiosi tracciati al mondo. Maurizio Riggiani, Chief Technical Officer Automobili Lamborghini, ha dichiarato Il Super Trofeo è il miglior banco di prova per testare soluzioni tecniche e aerodinamiche sia per le vetture stradali sia per le GT e con la Huracan Super Trofeo EVO2 abbiamo decisamente fatto un ulteriore passo in avanti. Ad aprile 2021 abbiamo celebrato il traguardo della quattrocentesima Huracan da corsa. Il nostro obiettivo con la Super Trofeo EVO2 è di raggiungere in pochi anni quota 500. Aerodinamiche e design sono gli ambiti in cui squadra corse e centro stile si sono maggiormente concentrati. Dal punto di vista estetico, la Huracan Super Trofeo EVO2 estremizza il design delle precedenti generazioni, anticipando stilemi che debutteranno sulle stradali nei prossimi anni. Cambia radicalmente l'anteriore, caratterizzato da nuovi gruppi ottici full LED ad alta intensità dal design esagonale e dal pronunciato labbro Omega, che raccorda le pirne in carbonio e rafforza il legame stilistico con la Huracan STO. Inedite è anche le prese d'aria Air Curtain, che ottimizzano i flussi d'aria, mantenendoli aderenti alle fiancate e la resistenza aerodinamica. Il posteriore, dominato dall'ampia ala in carbonio, è stato ispirato da minimalismo e leggerezza. Le novità riguardano anche numerosi componenti della carrozzeria, come i rivestimenti dei brancardi e le già citate appendici aerodinamiche posteriori, convertiti da materiali plastici alla tibra di carbonio, pur mantenendo la massima sostenibilità in ottica a costi di gestione. Cambia anche il sistema frenante, progettato e sviluppato da squadra corse. I dischi anteriori in acciaio passano da 380 a 390 mm. Le nuove pinze hanno la possibilità di alluggiare pastiglie dal design inedito e con superficie maggiorata per ottimizzare performance e consumo. La propulsione è affidata al motore V10 aspirato 5,2 litri, che eroga una potenza massima di 620 CV, da gestire con cambio sequenziale a 6 marce X-Track e abbinato alla trazione posteriore. La Huracan Super Trofeo Evo 2 ha debuttato in pubblico il 28 maggio alle Castellè, in occasione del secondo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo Europe. Il prezzo per il mercato italiano è di 250.000 euro, tasse escluse. I clienti avranno la possibilità di aggiornare le Huracan Super Trofeo Evo con un kit dedicato disponibile da inizio 2022.